Un fronte comune per il diritto alla salute attraverso una rete che grazie al protagonismo della gente sappia presentare su un tavolo di confronto una progettualità concreta, eleccando fabbisogni problematiche ed esigenze del paziente. Certo, occorre fa presto perché i numerosissimi pensionamenti stanno svuotando gli ospedali, a cominciare da quello Spock di Polistena, dove tra qualche mese resteranno in servizio appena sei anestesisti, insufficienti per garantire la funzionalità di anestesia e rianimazione delle sale operatorie. Bisogna far presto anche per cercare di salvare i finanziamenti ex articolo 20 previsti per la ristrutturazione degli ospedali di Polistena e Locri e per la Casa della Salute di Siterno. Questo in sintesi quanto emerso nel corso del lungo dibattito nella sala consigliare di Cinque Frondi sul tema Una rinnovata partecipazione dal basso per una sanità giusta, prima uscita ufficiale del neonato Comitato per la Salute, un'unità di intenti per far fronte comune sul territorio.